Oggi il governo porta in aula una richiesta di ulteriore debito pubblico per 20 miliardi di euro. Ci dice che questa richiesta serve per salvare i risparmiatori di alcune banche, ma questa richiesta arriva esattamente in coincidenza con il rischio fallimento di MPS, la banca del Partito Democratico. E con noi non basta che ci dicano che vogliono salvare i risparmiatori. Noi vogliamo salvare i risparmiatori, ma allo stesso tempo e dallo stesso modo chiediamo chiarezza per quello che è successo all'interno di Montepaschi di Siena, una chiara responsabilità politica da parte del Partito Democratico. Proprio per questo chiediamo l'insediamento immediato di una commissione di inchiesta, chiediamo che nel momento in cui arrivino soldi pubblici a qualche banca, a questo conseguano immediatamente le dimissioni degli amministratori. E chiediamo altresì che venga verificata ed evidenziata la chiara responsabilità degli amministratori delle banche. Ancora una volta noi ci sembra che il Partito Democratico non voglia salvare i risparmiatori, voglia utilizzare questa scusa per salvare e nascondere le responsabilità degli amministratori delle banche e della propria banche.